L'hotel Abidoro è una struttura della costa nord di Sardegna, nel golfo di Marinella, che copre una struttura di 33 età. L'hotel dispone di 177 camere a livello alto, due suiti presidenziali. Tra il servizio che abbiamo quest'anno ha una spa nuova, anche quattro restauranti, tre bar, la parte per sport, tennis, palestra e una bellissima spiaggia. Questo hotel è nato nel 1963, è uno dei primi in questa parte della costa di Sardegna. È nato già come un hotel di qualità, un 5 stelle, e è così che la proprietà attuale vuole continuare. Con il tempo, nella storia dell'hotel, ha fatto diversi interventi e diversi ampliamenti della struttura. Abbiamo deciso di rinnovare l'impianto di climatizzazione dovuto alla necessità di ottimizzare le risorse, sia energetiche, ma anche di qualità, a livello anche di rumori o di ottimizzazione in generale del sistema di climatizzazione. L'intervento all'hotel Abidoro è stato quello di andare a sostituire i vecchi generatori che erano installati nell'albergo, due refrigeratori a gas R22 con un refrigeratore clima Veneta, avendo potenza termica più o meno di 450 kilowatt, con dei compressori centrifughi a levitazione magnetica. Inoltre sono state sostituite due caldaie alimentate a gasolio con una pompa di calore, sempre appunto clima Veneta, a recupero di energia. Potenza indicativa anche questa di 450 kilowatt termici. Quest'anno l'intervento impiantistico ha riguardato essenzialmente, oltre che il completamento di tutta la centrale termofrigo, con l'indistrazione delle nuove unità del sistema di supervisione, anche il servizio della nuova spa, che è appena stata realizzata, dell'istrutturazione dei nuovi ristoranti, e anche la realizzazione di due suite, più di altre dieci camere che sono state completamente rinnovate. All'interno delle suite e delle camere, come della spa e del ristorante, sono state anche installate delle unità a fan coil clima Veneta canalizzabili. La produzione impiantistica realizzata presenta numerose innovazioni. Innanzitutto il ClimaPro, che è un sistema di gestione e di supervisione e controllo dei sistemi installati. Questo permette di gestire sempre, di selezionare sempre, il generatore con la massima efficienza, leggendo in diretta tutti i parametri provenienti dalla struttura, quali consumo, sia per l'acqua calda sanitaria, acclimatizzazione o riscaldamento della piscina. Secondo luogo, è stata installata una pompa di calore a recupero totale, che recupera il calore che altrimenti sarebbe disperso in ambiente per il riscaldamento della piscina e dell'acqua calda sanitaria. E terzo, un refrigeratore di ventilazione magnetica con inverter, che permette un'altissima efficienza ai carichi parziali. È difficile stimare il risparmio geletico ottenibile con la nuova situazione impiantistica, però noi abbiamo, dai calcoli che sono emersi, diciamo che tra un 30 e un 40% dovrebbe essere facilmente ottenibile. I vantaggi di un sistema integrato come quello installato all'Abidoru è sicuramente quello di avere la possibilità di monitorare in tempo reale tutte le apparecchiature in campo. Di conseguenza si può sapere con esattezza l'energia che viene destinata alla produzione dell'acqua calda sanitaria, al condizionamento e al riscaldamento della piscina. Questi fattori sono fondamentali anche perché si riesce in questa maniera ad ottimizzare quelli che sono i consumi. Quindi questo tipo di sistema consente di avere un aspetto molto importante, che è quello di tenere sotto occhio in tempo reale il funzionamento delle apparecchiature e di rilevare in maniera molto tempestiva eventuali anomalie, in maniera tale che l'intervento possa essere il più celere possibile, soprattutto visto anche l'importanza della struttura alberghiera. La priorità essenziale per la progettazione di strutture alberghiere di questo tipo è il comfort. Il raggiungimento del comfort è essenziale per i nostri clienti e lo è per i clienti dei nostri clienti. Secondo luogo l'affidabilità, in quanto il sistema deve funzionare 24 ore, 24 ore, 365 giorni all'anno e non deve esserci mai un disservizio perché altrimenti questo ricadrebbe sul comfort. E poi la sostenibilità e l'efficienza energetica, perché questo permette di accedere a incentivi sia volumetrici che economici sia a avere strumenti di marketing ulteriori per strutture di lusso. Sostenibilità è andare a minimizzare l'impatto che i sistemi che noi andiamo a progettare hanno sull'ambiente che ci circonda e di conseguenza su noi stessi per regalare un futuro migliore ai nostri figli. Grazie. 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 Grazie.